onorevole coferati lei qui al parlamento europeo ora come dire fa un po un altro mestiere ma la sua immagine resta sempre quella di un sindacalista lei ha fatto per decenni il sindacalista in italia quindi nessuno meglio di lei in fondo può rispondere a questi problemi problemi del lavoro che modello sociale sta nascendo in europa l'europa un tempo aveva un capitalismo diverso da quello anglosassone aveva un'economia sociale di mercato aveva un welfare aveva un modello di capitalismo effettivamente che non era quello americano e neppure quell'inglese poi a poco a poco sta cambiando tutto l'europa aveva un moderato protezionismo ora è sempre più liberista dopo l'ingresso dell'inghilterra e dopo che è cambiato in fondo una certa cultura economica ora il mondo del lavoro sta attraversando e non solo nei paesi mediterranei nei momenti di grande difficoltà ecco la domanda è questa ma che europa stiamo costruendo crisi che è arrivata dagli stati uniti nel 2008 ha colpito tutti i paesi europei non ha lasciato indenne alcuno poi alcuni paesi hanno problemi più rilevanti perché avevano situazioni già difficili in precedenza tra questi indubbiamente l'italia insieme alla spagna portogallo l'irlanda e la drammatica situazione della grecia che fa un riferimento negativo per tanti la cultura di centrodestra che prevale oggi nei governi europei mette in discussione il vecchio modello sociale europeo dunque la crisi viene affrontata da un lato riducendo i diritti individuali e anche quelli collettivi delle persone che lavorano e dall'altra parte ridimensionando cercando di cancellare addirittura il vecchio welfare che invece garantito coesione sociale per decenni e decenni in europa bisogna sconfiggere questo orientamento negativo quello che vuole tutta la libertà al mercato senza regole che pensa che poi basta praticare il rigore per avere una crescita in grado di produrre occupazione io penso che rigore sia necessario ma il rigore senza politiche per lo sviluppo non porta da nessuna parte anzi fa molti danni abbassa il pil in fondo e si amplia sempre più il divario tra prodotto interno lordo e il debito ma c'è una possibilità concreta poco a poco di cambiare di nuovo la cultura e la politica economica dell'europa la cultura economica intendo e ritornare un po a quell'europa che conoscevamo e che amavamo e che ora tanta gente non ama più tanto secondo me sì come le diceva un problema di orientamento politico da parte dei governi è bastato non è poca cosa che in francia i socialisti vincessero le elezioni l'arrivo di hollande ha cambiato già le dinamiche di rapporto tra la francia e la germania con effetti positivi su alcuni grandi temi se come spero l'anno prossimo non solo in italia ma anche in germania prevarrà un orientamento progressista poi gli schieramenti modelli si vedranno al momento opportuno il destino dell'europa può cambiare in profondità e dunque l'europa può tornare ad essere un luogo nel quale le persone lavorano vivono rispettate hanno i loro diritti e soprattutto possono contare su una serie di protezioni penso in particolare più deboli e più poveri che non sono mai stati abbandonati nella cultura europea che non possono essere lasciati a se stessi ma è possibile questo mantenendo tutte le frontiere commerciali aperte in un mercato globale sì se la competizione avviene sul profilo alto se non si fa la competizione usando esclusivamente l'arma del contenimento dei costi dei prodotti noi dobbiamo puntare moltissimo sulla conoscenza che è stata la nostra arma vincente per secoli conoscenza qualità del prodotto qualità del lavoro in questo modo si può competere nel mercato globale senza penalizzare le persone che lavorano d'altro canto poi lo dimostrano infatti se i tuoi prodotti sono scadenti anche se costa un poco non li vendi in una larga parte del mercato devi puntare sulla capacità che in molti settori in europa e anche in italia avevano di produrre con livelli qualitativi adeguati